welcome to overland sabato primo settembre 2018 siamo all overland festival overland è una rivista che esce quattro volte all'anno e dal punto di riferimento per i motociclisti che programmano che fanno viaggi giro per il mondo ed una volta all'anno organizzano questo evento noi il primo anno che veniamo sono tre giorni di festival venerdì sabato domenica tutta quell'aria edibita a esposizione moto abbigliamento accessori per motociclisti c'è un bar c'è la birra c'è un tendone dove c'è musica dal vivo in serata poi c'è dietro di là c'è l'aria camping quindi ci sono tutte le tende perché qua arriva gente non solo dall'inghilterra ma per esempio ieri ha mangiato la polenta uno che è arrivato dall'olanda alle mie spalle i nostri amici del wonder in kitchen loro stanno facendo la colazione noi siamo venuti ieri ci siamo fatti dalle 10 di mattina alle 11 di sera siamo rimasti senza corrente ragazzi abbiamo i nostri customer ci fanno la luce con i cellulari thank you guys e a proposito abbiamo registrato un breve video di ieri sera quando siamo tornati a casa e avevamo ancora da lavare e da cucinare per stamattina perché quando vi parlo sono le 8 di mattina e vi abbiamo lasciato questo messaggio ciao questi siamo noi due sono quasi le 11 di sera venerdì sera non volevamo far nessun video di oggi perché avremmo raccontato tutto domani ma è giusto condividere con voi la nostra condizione di schiavitù ok per pass chiamate qualcuno chiamate dal vvf il telefono azzurro aiutateci veniteci a prendere ciao buonanotte a domani quindi oggi si replica dalle 10 alle 11 di questa sera nella nostra precedente vita in italia anche io carla siamo stati nel piccolo due centauri due motociclisti ci siamo fatti un viaggio da milano a porto cesario in puglia senza prendere un chilometro di autostrada ci siamo fatto tutti gli appennini tutti i passi in sella ad una yamaha r1 quindi ragazzi siamo nel nostro habitat addosso ciao carla ciao 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 Musica Dall'Alaska all'Argentina, oltre 35.000 miglia percorse. Musica Dall'Inghilterra alla Nuova Zelanda, attraversando la Siria, Cina, Pakistan. Musica Marito e moglie con questo sidecar, quattro anni e mezzo per percorrere 90.000 miglia attraverso il nord e sud, America, Africa, Asia, Australia e il Medio Oriente. Questa è la zona bar, quel casuttino lì c'è dentro il bar, birra. Cheers! Di qua andiamo nella zona camping, bagni e docce e di qua abbiamo tutto l'accampamento. Tutti in moto, 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 motociclisti. Questo è quanto ragazzi, torno al rapporto da Carla. Carla, fa caldo. Ciao, saluta Carla. Ciao Alla prossima. We love you. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima.